Offrite il vostro regalo con un cuore puro. Dio ha avvertito gli israeliti di smettere di fingere e di camminare dritti con Lui. Dio ha avvertito gli israeliti di smettere di fingere e di camminare dritti con Lui. Il Creatore ha accusato gli israeliti di tentare di corromperlo con le loro grasse offerte mentre vivono nel peccato. Jehovah insisteva che non avrebbe accettato le offerte. Dio ha sottolineato che gli israeliti devono dare priorità alla giustizia rispetto alla loro generosa donazione. Devono relazionarsi con Lui con cuore puro prima che Egli possa accettare i loro doni. Dio disse, anche se mi offrite i vostri olocausti e le vostre offerte di grano, io non li accetterò, né considererò le vostre offerte di pace ingrassate. Toglietemi il rumore dei vostri canti, perché non sentirò la melodia dei vostri strumenti a corda. Ma che la giustizia scorra come acqua, e la giustizia come un potente ruscello. Amos 5,22 trattino 24. Lezione, Dio non è un uomo e non può essere ingannato da un dono di qualsiasi dimensione. Jehovah riceverà solo un'offerta che gli sarà presentata da un cuore puro. Perché Dio accetti un'offerta, essa deve provenire da un cuore puro, e senza che il donatore abbia un secondo fine. Perciò, perché Dio si preoccupa tanto delle offerte oneste, anche i suoi figli dovrebbero darle la priorità. I figli di Dio devono cantare canti di lode e offrire le nostre danze a Dio con onestà. Nessun figlio di Dio dovrebbe sacrificare le sue risorse a Dio con un programma nascosto, perché Dio non sarà soddisfatto. Tutte le lodi e gli onori devono essere dati a Dio senza riserve. Preghiera, caro Signore, come posso servirti al meglio e come posso offrirti un sacrificio accettabile? Mi sono reso conto che non si può essere ingannati con un dono disonorato, per quanto significativo possa apparire. Ti prego di aiutarmi a servirti senza secondi fini. Lasciatemi essere sincero con i miei doni, e lasciate che provengano da un cuore puro. Lasciate che i miei sacrifici di ringraziamento vi soddisfino e mi permettano di mantenere un servizio costante nei vostri confronti, in modo che io possa essere qualificato per ricevere le vostre benedizioni. Perché nel nome di Gesù Cristo faccio le mie richieste. Amen.